Berardi il lancio di prima, perfetto per Sansone, splendido il controllo, Sansone si oppone come meglio può Simone Colombi. Berardi arriva puntuale la sovrapposizione di Biondini, Zazza di prima, disturbato da Luca Ceppitelli, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Berardi che dà un'occhiata in mezzo, Pennella sul secondo pallo, Zazza si coordina, Zazza! Simone Zazza, un gol semplicemente magnifico, 1-0 a Sassuolo. La reazione del Cagliari con Crisetic che porta via il pallone a Missiroli, poi la mette sulla destra per Abbalzano che vuole rientrare sul mancino, poi sul destro, trova il fondo, sol! Il pareggio immediato del Cagliari, dopo 60 secondi dal gol di Zazza!